Marco Volpi, acconciature uomo-donna, è un personaggio molto conosciuto nella zona. Andiamo a farci dare qualche consiglio per l'estate. Il salone lavora in collaborazione con Elgon in Italia e all'estero, per essere aggiornati sulle tendenze, sulle linee e sui colori moda. Volpi New Style, la loro passione è al vostro servizio. Eccolo qua l'opera. Marco, ti prendo qua mentre stai facendo il tuo taglio. Parliamo un po' della tendenza moda di quest'estate. Cosa andrà? Sai, cosa andrà è sempre un po' una domanda che va di moda, ma poi alla fine dice e non dice. La cosa più importante è capire la persona che è di fronte. Dopodiché bisogna capire se è una persona che ha voglia di osare o se è una persona che ha voglia di sentirsi dire qualcosa di nuovo, però alla fine gli piace essere sempre un po' se stessa, insomma, da vedere un attimo il soggetto. Se un soggetto ha voglia di portare avanti una moda, un'immagine un po' più particolare, si va a cercare queste tendenze che vanno e continuano ad andare dei lavori un po' più duri, diciamo un po' più rock. Finora è andato un movimento soft, un movimento morbido, onde, cose poetiche. Invece prossimamente andranno cose un po' più rock, quindi rasature, colori come si vede un po' più aggressivi, tagli un po' più marcati, più geometrici, ecco, quindi cose un po' più dure, fra virgolette. Quindi io mi devo aggiornare? Eh, sai, dipende, come dicevo prima, dalla femminilità, dal tipo di donna che è di fronte. Giustamente bisogna seguire, assecondare le linee, le tendenze, il pensiero della persona che è di fronte, questa è la cosa più importante.